La protezione civile nazionale ha approvato il piano da 30 milioni per la messa in sicurezza del territorio di Livorno devastato dall'alluvione del 9 e 10 settembre 2017. A darne notizie è stato il presidente della regione toscana e commissario per il post alluvione impegnato nei nuovi sopralluoghi sui cantieri aperti a Montenero, sul rio Ardenza e sul rio Maggiore insieme all'assessore regionale alla protezione civile. 10 milioni del piano destinati alla messa in sicurezza di rio Maggiore e Ardenza, 8 all'area di stagno e 12 alle spese di soccorso. In tutto la regione ha stanziato 17 milioni, mentre 5 arrivano dal suo bilancio, 8 invece quelli di provenienza statale. 54 i cantieri aperti nei tre comuni colpiti per un importo totale di 19 milioni di euro e 86 i lavori conclusi, mentre 7 sono quelli che dovranno partire entro fine febbraio. Ora la regione, che ha detto di voler sollecitare il nazionale per i rimborsi alle famiglie e alle imprese, punta ad appaltare tutti i lavori in somma urgenza. I primi dovranno essere completati entro marzo, il resto entro la primavera.